Ermete Trismegisto, Core Cosmu, la Vergine del Cosmo. Avendo detto queste parole, Iside versa subito a Horus una dolce bevanda di ambrosia che le anime hanno la consuetudine di ricevere dagli dèi. Poi Iside incomincia così il suo discorso sacro. Posto che le numerose sfere del cielo sovrastano tutta la natura del mondo inferiore, e che in nessun luogo manca loro alcunché di ciò che il mondo ora possiede, è necessario che tutto sia stato ordinato dal mondo superiore e che la natura del mondo inferiore sia stata completamente colmata. Il mondo inferiore non è certo in grado di dare ordine al mondo superiore. Infatti i misteri minori cedono necessariamente il passo ai misteri maggiori. L'ordine dei corpi celesti, assolutamente stabile e inafferrabile per l'intelligenza dei mortali, è più potente di quello del mondo inferiore. Perciò il mondo inferiore, colmo d'angoscia, sospirò e pianse sulla bellezza e l'eterna durata del mondo superiore. Contemplando, soffriva alla vista della bellezza del cielo, immagine del Dio ancora ignoto e dello splendore solenne della notte, accompagnata da una luce viva, anche se inferiore a quella del sole, e alla vista della solennità degli altri astri, in movimento nel cielo ognuno secondo il proprio turno, che danno ordine e crescita alle cose del mondo inferiore, in ragione di movimenti e di orbite temporali fissate in virtù di segrete emanazioni. Continua era l'angoscia e inenarrabile la ricerca di Dio. Finché l'artefice di tutto continuava a non volere, l'ignoranza invadeva ogni cosa. Quando invece decise di mostrarsi tale qual è, espirò negli esseri divini desideri d'amore e donò alle loro intelligenze la luce che in abbondanza aveva in petto, perché prima di tutto volessero cercare, poi desiderassero trovare, e infine potessero riuscire. Questo, Horus, figlio mio meraviglioso, sarebbe potuto avvenire non tra i mortali perché ancora non esistevano, ma in un'anima che avesse un legame di affinità con i misteri del cielo. Questa era l'anima di Ermete, il quale ha tutto conosciuto. Egli vide il tutto, e avendo visto, comprese, e avendo compreso, fu in grado di svelare e mostrare. Scrisse quello che aveva conosciuto, e dopo averlo scritto lo nascose. Preferì infatti tenere un rigoroso silenzio sulla maggior parte di questi misteri, piuttosto che rivelarli, perché ogni epoca venuta alla luce successivamente al cosmo li cercasse. Così si preparava a risalire agli astri per fare da scorta agli dèi suoi consanguinei. Lasciava suoi successori Tat, figlio suo e insieme erede di questi insegnamenti, ma per breve tempo, e Asclepio i Mutes, secondo il volere di Ptai, di Efesto, e tutti gli altri che erano destinati a conoscere esattamente e fedelmente la dottrina celeste, secondo la volontà della provvidenza, regina di tutte le cose. Ermete, dunque, andava dicendo all'atmosfera circostante che non aveva trasmesso nella sua completezza la dottrina al figlio perché era ancora troppo giovane, ma quando spuntò la luce del giorno, fissò l'Oriente con i suoi occhi che vedono tutto perché aveva visto qualcosa di invisibile. Lentamente, mentre la contemplava, gli venne in mente la giusta decisione. Mettere, cioè, accanto agli oggetti segreti di Osiride e i simboli sacri degli elementi cosmici e ritornare in cielo dopo aver pregato e aver pronunciato queste parole. Non è opportuno, figlio mio, che io lasci incompleto questo racconto. Dirò, invece, quello che Ermete disse mentre deponeva i libri. Disse così. Sacri libri, che siete stati prodotti dalle mie mani incorruttibili, sui quali ho potere, perché vi unsi con l'unguento dell'immortalità. Rimanete immarcescibili e incorruttibili per l'eternità, poiché siete invisibili e introvabili per tutti quelli che sono destinati a percorrere le pianure di questa terra, fino a quando il cielo, invecchiando, non genererà organismi degni di voi, che il demiurgo da sempre chiamò anime. Rivolte queste parole ai libri e una preghiera alle sue opere, Ermete si delimita uno spazio sacro nelle zone a lui riservate. Era durato abbastanza il periodo dell'inattività e del nascondimento. La natura, figlio mio, restava sterile finché quelli che già avevano avuto l'ordine di fare il giro del cielo, avvicinatisi a Dio, re di tutte le cose, gli annunciarono che gli esseri restavano inoperosi, che bisognava dare ordine a tutte le cose e che questo non era compito di nessun altro se non suo. Dicevano, Ti supplichiamo, considera ciò che adesso esiste e che cosa serve ancora per il futuro. Quando dissero queste parole, Dio sorrise e affermò Che la natura sia! E dalla sua voce scaturì un essere femminile di grande bellezza, e appena la videro, gli dèi si riempirono di meraviglia, e Dio, prepadre, la onorò del nome di natura, Fisis, e le ordinò di essere feconda.